Dio non è chiuso in se stesso, ma si apre e si mette in comunicazione con l'umanità. E il nostro peccato è spesso di ripiegarci e chiuderci in noi stessi, creando isole inaccessibili e inospitali, dalla coppia chiusa alla parrocchia e alla patria chiuse. Così Papa Francesco, prima della preghiera dell'Angelus, ha parlato dell'insegnamento che viene dalla guarigione di un sordomuto da parte di Gesù, raccontata nel Vangelo di oggi. Questo evento prodigioso mostra, ha detto il Papa, come Gesù ristabilisca la piena comunicazione dell'uomo con Dio e con gli altri uomini. Dio supera l'abisso dell'infinita differenza tra Lui e noi e ci viene incontro. Per realizzare questa comunicazione con l'uomo, Dio si fa uomo. In Gesù, ha spiegato Francesco, che è il grande costruttore di ponti, che costruisce in se stesso il grande ponte della comunione piena con il Padre. Ma questo Vangelo ci parla anche di noi. Spesso noi siamo ripiegati e chiusi in noi stessi e crediamo tante isole e inaccessibili e inospitali. Persino i rapporti umani più elementari a volte creano delle realtà incapaci di apertura reciproca. La coppia chiusa, la famiglia chiusa, il gruppo chiuso, la parrucchia chiusa, la patria chiusa. E quello non è di Dio. Quello è nostro. È il nostro peccato. Eppure, ha concluso Papa Francesco, all'origine della nostra vita cristiana, nel battesimo con il gesto di Gesù, a toccare orecchie lingue e la parola apriti, siamo stati guariti dalla sordità dell'egoismo e dal mutismo della chiusura e inseriti nella grande famiglia della Chiesa. Possiamo ascoltare la parola di Dio e comunicarla a quanti non l'hanno mai ascoltata o a chi l'ha dimenticata e sepolta sotto le spine delle preoccupazioni e degli inganni del mondo. Dopo l'Angelus, il Papa ha lanciato un appello per la riconciliazione tra Venezuela e Colombia, guardando con speranza l'incontro dei Vescovi dei due paesi per esaminare la dolorosa situazione alla frontiera e ricordato la beatificazione a Gerona, in Spagna, di due religiose martirizzate durante la guerra civile spagnola, la cui eroica testimonianza può dare forza e speranza a quanti oggi sono perseguitati a motivo della fede cristiana. Grazie a tutti.